Oggi visiteremo la città di Basilea, che è situata nella parte nord-occidentale della Confederazione Elvetica. Basilea viene unanimemente riconosciuta come capitale culturale della Svizzera, ed è la seconda piazza economica dopo Zunico e a livello mondiale e tra le città con la lingua qualità. In la città troviamo numerosi musei, tra cui citiamo il Kunstmuseum, che nel 1661 fu la prima collezione d'arte in Europa accessibile al pubblico. Il Museo Storico di Basilea, con le sue tre sedi, il Museo della Musica, il Museo Abitativo e il Museo della Storia e delle Culture, e il Museo d'Arte Contemporane. Inaugurato nel 1860 come primo edificio espositivo pubblico in Europa, dedicato esclusivamente alla produzione e alla pratica artistica contemporanea a partire dagli anni Sessanta. Nel 1460 qui si aprì la prima Università della Svizzera, che fu frequentata anche da Erasmo da Rotterdam, Paracelso e Nice. Durante l'anno in città si svolgono numerosi appuntamenti, che vanno dal Carnevale, maggiore evento culturale dichiarato patrimonio dell'UNESCO, alle manifestazioni fieristiche come Baselworld, dedicata agli orologi e ai preziosi, e Art Basel, per l'arte contemporanea. Il video finisce qui, se ti è piaciuto non dimenticarti di spuntare la campanellina, di mettere un mi piace e di iscriverti al canale. Grazie e a presto!